Un pass di Paternò è l'associazione Mamme in Comune assieme nella settimana europea per la riduzione dei rifiuti una iniziativa di ampio respiro che coinvolge il comune, la Dasti, i quattro circoli didattici la Virgilio, la Giovambattista Nicolosi, la Marconi e la Don Milani e se differenziare deve essere la regola non si può non partire proprio dai più piccoli Diverse le associazioni che partecipano a questa iniziativa che praticamente vede le associazioni impegnate nel tessuto scolastico nelle scuole primarie, quindi scuole elementari, scuole medie ma anche in studi superiori dove saremo con loro, con i ragazzi per spiegare come differenziare bene i rifiuti e poi quest'anno c'è questo tema importante sul riciclaggio anche di cibi e quindi vogliamo portare quelli che i nostri nonni ci hanno insegnato come riprendere gli avanzi del cibo che sono ancora commestibili e quindi riutilizzarli in maniera un pochettino diversa questa diciamo durante questa settimana ci sarà poi alla fine una festa che noi abbiamo chiamato Ecofest dove grazie alla Dasti porteranno l'isola ecologica mobile dove inviteremo un po' le persone a portare in particolare due rifiuti che sono quelli che stiamo chiedendo che è la plastica e la carta e all'interno di questa Ecofest ci saranno dei laboratori con dei tecnici che illustreranno ai ragazzi ma anche a chi vorrebbe diciamo avvicinare a questo momento all'ex macello e come riutilizzare, riciclare alcuni prodotti che noi generalmente buttiamo via il mio scopo principale innanzitutto è dare un'informazione ai ragazzi quindi dai ragazzi raggiungere le famiglie ma lo scopo fondamentale è quello di cercare di arrivare a realizzare rifiuti zero che tra le altre cose è un partner importante anche in questo progetto se ce la facciamo comunque il nostro obiettivo, quello principale è proprio cercare di analizzare questo problema dei rifiuti in maniera un pochettino più cosciente in questa città Occorre un cambio di mentalità e alla fine differenziare significa pure ridurre lo spreco alimentare giusto allora, come detto, partire dalle scuole e da chi sono? È una bellissima iniziativa, noi già abbiamo avuto esperienza a maggio con sempre la manifestazione europea, differenziamoci quest'anno la marcia in più è proprio perché tutte le associazioni la maggior parte delle associazioni ci siamo unite insieme per portare ancora questo messaggio, soprattutto ci rivolgiamo alle scuole ma a tutti i cittadini, manca un'educazione ambientale quindi l'educazione sia a tenere la città pulita sia come differenziare bene i rifiuti e quindi vogliamo mandare questo messaggio soprattutto perché dai rifiuti può nascere anche una nuova risorsa economica non soltanto cercare di salvaguardare l'ambiente